Mi informo che sarebbe un vero e proprio delitto contro la cultura chiudere e liquidare un liceo musicale, qualsiasi esso sia, ma io mi sono affezionato all'idea di salvare il liceo musicale di Torre Annunziata che si chiama Pitagora Benedetto Croce, anche per questo titolo meraviglioso che si è dato, un liceo, abolirlo, musicale, peggio ancora, no, va salvato con tutte le forze della cultura e della democrazia. E musichet ad anatos benei, non è uno sfoggio di erudizione, è un richiamo a un valore fondamentale. Ragazzi che hanno bisogno di tanta attenzione non siano privati di questo insegnamento, di questo ramo della loro educazione. Una società che non investe sui giovani, su di voi, è una società che divora se stessa. Per questo mi auguro che liceo Pitagora Croce, editora Annunziata, possa continuare la sua opera di formazione attraverso anche la musica. affinché tanti ragazzi, giovani, imparino sempre di più a suonare gli strumenti che vi renderanno a pieno titolo cittadini artefici di democrazia. Sosteniamo i licei musicali, sosteniamo le scuole di musica popolare, i ragazzi si avvicinano alla musica e chiaramente diventa un messaggio di speranza e di grande positività. Io sto con il liceo musicale. Sosteniamo il liceo musicale Pitagora Croce, editora Annunziata, perché musica non muore mai. La 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 musica è cultura e compagna di vita. E' importante anche insegnarla nelle scuole. La musica non può morire. La musica nasce e rinasce dentro di noi ogni giorno. Non ci si improvvisa artisti, non ci si improvvisa cantanti, attori e ballerini, ma si deve studiare per farlo. La musica salverà il mondo, gli artisti ci salveranno. La musica nunca muore. Music will save the world. Per tutti i licei musicali d'Italia, per il liceo musicale editora Annunziata, Pitagora Croce, music never dies. La musica non muore mai. La musica, la grande musica, è il più dolce e raffinato nutrimento dello spirito. Grazie a queste attività, i giovani studenti sono in grado di riconoscere e sviluppare il proprio talento nella fascia di età più idonea per la crescita di un futuro musicista. Che tal amigos, soy Jorge Pardo, de Perù, para mandar un affettuoso saludo al liceo Pitagoras. La musica no deve morir. Un abrazo a todos los estudiantes. Music never dies. La musica non muore mai. La musica sovra al monte. La musica sovra al mondo. È una grande compagna della vita. È una grandissima distrazione. È una passione. Un abbraccio a tutti voi del liceo Pitagora Benedetto Croce. Ciao. La musica è sentimento. La musica è quella che santerà il mondo. E ricordiamoci che la musica e la vita difendiamo. La musica non camoera. La musica non morirà mai. La musica siamo noi. È la nostra più grande amica. Sosteniamo i licei musicali come quello Pitagora di Torre Annunziata, a cui mando un abbraccio fortissimo, e sosteniamo i loro progetti e i loro programmi. Un appello per sostenere i licei musicali e coltivare le vostre passioni. Music will save the world. Ricordiamoci sempre che la musica non può morire mai. È una cosa gravissima. Significa fermare tutto questo fermento artistico-culturale per arrivare al nulla. Per prendere un'affermazione fatta recentemente dal professor Sabatini e dal nostro primo ministro Draghi, in questo momento non bisogna togliere niente alla scuola. Bisogna dare. Sono il dirigente Benito Capossiera del liceo Pitagora Benedetto Croce di Torre Annunziata. Stiamo cercando di dare il giusto valore a tutti i licei della Campania, ma anche d'Italia. La musica non morirà mai. Music never dies! La musica altererà il mondo!